Gesù Cristo è venuto al mondo come Maestro per insegnare, per guidare i nostri passi sulla via della verità, della giustizia, della carità e della vita, perché qualsiasi altro cammino che non sia quello tracciato da Lui è un cammino che porta alla morte eterna. In quel tempo vennero a Gesù da Gerusalemme alcuni farisei e alcuni scribi e gli dissero perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Ed egli rispose loro Perché voi trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto Onora il padre e la madre e inoltre chi maledice il padre e la madre siamo a sua morte. Invece voi asserite. Chiunque dice al padre o alla madre ciò con cui ti dovrei aiutare e offerto a Dio non è più tenuto a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ipocriti, bene ha profetato di voi Isaia dicendo questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me. In vano essi mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Da questo testo salta agli occhi come avevano deturpato la legge della giustizia e della carità che ordina sempre e prima di tutto di aiutare il prossimo, ancor più se si tratta del padre e della madre. Ed è ugualmente giusto, caritatevole e necessario aiutarci reciprocamente gli uni gli altri. Così ci ha insegnato Gesù Cristo quando ha detto, se aveste compreso che cosa significa misericordia io voglio e non sacrificio, non avreste condannato individui senza colpa. Da qui si deduce quanto fosse grande la necessità di un chiarimento sul significato della legge di Dio, perché gli uomini l'avevano interpretata male. Tale chiarimento lo abbiamo in Cristo, che ci è stato inviato dal Padre e proprio per questo può dirci. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La sua dottrina è precisa ed esatta, ma per rispettare la parola di Gesù Cristo è necessario conoscerla e credere in Lui, poiché come potremmo rispettare una legge se non la conosciamo? o se non crediamo in colui che l'ha promulgata? È necessario dunque accettare la persona di Cristo. Nel mondo, purtroppo, c'è molta gente che si ritiene istruita, ma delle leggi di Dio sa poco o niente, e il peggio è che spesso la gente le contesta, non perché le conosce bene, ma perché in esse vede un'argine alle proprie passioni disordinate, alla mancanza di giustizia e di carità. Eppure le leggi di Dio sono ciò che dovremmo essere più interessati a conoscere, poiché è per loro tramite che saremo salvi o dannati. Vi sono altri che conoscono le leggi di Dio, ma ne danno un'interpretazione errata, opposta al senso di Cristo, credendo in questo modo di giustificare le discrepanze della propria condotta. Così arrecano grande danno a se stessi e al prossimo, che ingannano con il loro esempio, con la loro mentalità e le loro erronee parole. Sono come quelli dei quali Gesù Cristo disse «Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi». E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Dobbiamo dunque stare attenti a costoro, secondo la regola che ci ha dato Gesù Cristo. Possiamo conoscerli dalle loro stesse opere. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendegna uva da un rovo. L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. Questa è la regola di orientamento che ci ha lasciato Gesù Cristo. Guardare alle opere di coloro che si presentano come guide sulle strade della vita. Vedere se sono d'accordo con gli insegnamenti della Chiesa di Dio, fondata da Cristo. L'unica vera che possiede il dono dell'infallibilità del riconoscimento e nella dichiarazione della verità di Cristo. Con l'assistenza dello Spirito Santo. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli dimora presso di voi e sarà in voi. Questa promessa di Gesù Cristo, fatta alla Sua Chiesa, ci dà la certezza assoluta nei sentieri della fede che dobbiamo percorrere e sono tracciati per noi dalla Chiesa di Cristo, perché questa è guidata dallo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci parla per bocca della Chiesa. Grazie a tutti i nostri spettatori e sono tracciati per noi dalla Chiesa di Cristo. Grazie a tutti i nostri spettatori e sono tracciati per noi dalla Chiesa di Cristo. Grazie a tutti i nostri spettatori e sono tracciati per noi dalla Chiesa di Cristo. Grazie a tutti i nostri spettatori e sono tracciati per noi dalla Chiesa di Cristo.